Il cuore del rapporto Civita è costituita da un'indagine di campo condotta dal Centro Sud di Gianfranco Imperatori. L'indagine di campo che aveva due obiettivi, da un lato cercare di determinare l'ammontare e la qualità del potenziale di domanda di social per le istituzioni culturali e dall'altro analizzare in modo critico le esperienze già realizzate in un campione significativo di musei. L'analisi della domanda potenziale ha messo in evidenza che esiste un pubblico vasto, soprattutto giovanile, che potrebbe essere coinvolto nella vita dei musei attraverso l'uso di questi strumenti, mentre l'indagine sulle istituzioni culturali, realizzata attraverso sia interviste al direttore della comunicazione, ai direttori dei musei, sia attraverso un'analisi critica delle esperienze di social già attivate in questi musei, ha messo in evidenza che la comunicazione museale può usare significativamente questi strumenti ma deve innovarli e allargarli.